La recente assoluzione di Francesco Acerbi, riportata da TuttoSport, non solo ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi dell'Inter, ma si è riverberata in tutta la comunità calcistica italiana, generando una serie di riflessioni e discussioni sul sistema giudiziario sportivo. La decisione di scagionare Acerbi dalle accuse di razzismo, per una presunta mancanza di prove concrete, non solo ha avuto un impatto immediato sulla squadra interista, ma ha sollevato questioni più ampie sull'equità nel calcio. Per i tifosi dell'Inter questa notizia rappresenta un momento di tranquillità. In quanto Acerbi è una figura fondamentale nella difesa del club, la sua assoluzione significa non solo il suo imminente ritorno in campo, ma anche il ripristino della sua reputazione e integrità come giocatore professionista. Inoltre, la conferma che non ci saranno sanzioni per il difensore è un ulteriore sollievo, permettendogli di concentrarsi pienamente sulla prestazione in campo. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità Inter. Ma al di là delle implicazioni dirette per l'Inter, la soluzione di Acerbi ha anche ricadute più ampie nel panorama calcistico italiano. Il suo rilascio da ogni accusa aprirà potenzialmente le porte a future opportunità, sia a livello nazionale che internazionale. Con l'avvicinarsi del prossimo campionato europeo, la squadra italiana può ora considerare Acerbi come una valida opzione per unirsi alla squadra, offrendogli un'opportunità unica di rappresentare il suo paese in una competizione prestigiosa. Questa notizia, però, solleva anche interrogativi sull'iter giudiziario sportivo e sul modo in cui vengono gestite le accuse nel mondo del calcio. La decisione di assolvere Acerbi, nonostante la mancanza di prove concrete, solleva interrogativi sull'equità e sulla trasparenza del sistema. Molti appassionati ed esperti discutono se l'onere della prova debba essere più severo e se il processo investigativo debba essere migliorato per garantire in futuro una risoluzione giusta e imparziale in casi simili. Insomma, la soluzione di Acerbi è una notizia significativa che va oltre il mondo del calcio e innesca riflessioni su giustizia, integrità e responsabilità nello sport. Da tifoso dell'Inter, qual è la tua opinione su questa notizia? Ritiene che la decisione sia stata giusta e trasparente? Come vedi il ruolo di Acerbi nel futuro del club e della nazionale italiana? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto e lascia il tuo mi piace al video per non perderti le prossime novità della squadra nerazzurra qui. E forza Inter sempre!